Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono in compagnia di Mind, il padre di tutti i manga e siamo qua per fare questo UFUFU che abbiamo trovato online. Ora va tanto di moda lo UFUFU in live ne abbiamo fatti parecchi per chi ancora non conoscesse cos'è UFUFU è questo sito dove vengono sfidate diverse cose, per esempio cibo, calciatori, in questo caso lo UFUFU sui migliori manga imprescindibili. Abbiamo trovato questa lista dei migliori manga imprescindibili vediamo quali sono per noi migliori manga imprescindibili, l'ho detto un po' di volte e sceglierò da un bacino di 128 manga quindi non tutti i manga ma quelli più imprescindibili ovviamente. Mind in quanto ospite, ma anch'io sono ospite, che entrambi siamo ospiti mi influenzerà con le scelte ma il giudizio finale sarà il mio. Vuoi dire qualcosa Anto? No va bene, canale tuo, regole tue, partiamo dai. Ok, quindi siamo qua. Troppo manga imprescindibili, non so di chi sia, però facciamo turno 128 diciamo, va bene? Benone. 128. Allora, ok, partiamo già alla grande. Ovviamente non possiamo aver letto tutto, però cerchiamo di valutare, dire qualcosa sui manga che abbiamo effettivamente letto. Allora, Di Grayman, Rai Sekamika. Allora, io conosco soltanto Di Grayman, non l'ho mai letto ma so che è uno dei top manga shonen letti da ragazze e mi attira. Conosco Allen, conosco Lena Lee ma non l'ho mai letto. Tu? Anche io Di Grayman lo conosco di fama, molti ne parlano molto bene comunque, forse non è proprio, non è conosciuto come meriterebbe probabilmente, ma non l'ho letto. So che è interrotto però in pausa, comunque è molto lento. Eh sì, forse è uno dei motivi. Rai Sekamika invece l'ho letto, è un manga molto breve, abbastanza breve, adesso non vi parlo quanti volumi. Ecco, come vedete, diciamo che il meglio, il contenuto si vede già in copertina, il grosso del contenuto. Guarda, a me in realtà, la cover è molto bella, ti dico i colori, il design con questa grafica, è bello il suo design, mi disturbano due cose per il manga. Ah, c'è anche una PNK, ho visto adesso. Uno, la forma del manico, come si chiama, la presa della spada, che sembra proprio un dildone. Secondo che ti fa capire che è un manga ecchi, diciamo, perché è tutta scoperta. Poi se è stata più coperta, mi dava l'idea di un manga di combattimento, ma invece ovviamente principalmente ecchi. In realtà è un manga pieno di fanservice, giustamente come si può notare, ma non è ecchi. Ok. E comunque è un Isekai. Ah, Isekai, ok. Sì, e con riferimenti... Ah, è tutto, c'è scritto qua, era Isekai Mika. Eh, e con riferimenti alla mitologia non rena, quindi a chi piace questo. Quindi ci sono tanti begli elementi. Eh, infatti, infatti. Ah, può essere interessante, magari me lo segno. Però io farei andare avanti di Greyman, comunque. Anche io sono... Come imprescindibilità di Greyman, direi. Sì, esatto, direi di sì. Raevo, Nane Kauru. Allora, due manga totalmente diversi. Conosco Raevo, Nane Kauru, ne ho sentito parlare molto spesso da te. E riterrei che forse Nane Kauru, come livello, sia superiore. Anche se forse non è nel mio stile. Cioè, per te è meglio Nane Kauru? Sì, in linea di massima, sì. Va bene, allora. Nane Kauru, quando non gli davo un euro, che era l'euro con cui veniva promosso, costava un euro. Io gli ho dato un euro, letteralmente un euro. E l'ho trovato un manga molto al di sopra delle mie aspettative. Rave è, come dire, il primo manga di successo di Hiroshima, che secondo me ancora oggi è meglio, anche se più acerbo, è migliore di Fairy Tail, per me. Questa è la variante, probabilmente lo comperò, vediamo. Ok, a me Rave è piaciuto molto. Pensavo che tu avresti votato Rave, e io ti sarei venuto anche dietro. Però visto che mi dici Nane Kauru... Eh, ma sai, parliamo di imprescindibilità, secondo me Rave è intascurabile, ci sono tanti manga come Rave. Nane Kauru sul Saddam... Nane Kauru andrebbe letto, e io ho cercato di recuperare anche la versione Black, che è una sorta di spin-off alternativo, che però purtroppo non si trova facilmente. Vai Nane Kauru, vai. Ovviamente ora, finché vengono presentati, ci discutiamo un po', dopo andiamo più veloci, eh. Sì, sì. Allora, questi non li ho mai letti, conosco entrambi, Dolly Kill Kill e Kit Hose. Dolly Kill Kill, il disegnatore, è lo stesso di Blue Lock, quindi opterei per lui. Kit Hose è comunque famoso per essere uno shonen, però con un protagonista e solo ragazze. Hanno entrambi lo stesso punto debole, cioè il finale tagliato per probabilmente, come dire, le vendite sono andate un po' scemando, per motivi assurdi, probabilmente, perché Dolly Kill Kill è molto bello. Probabilmente il mercato non rispondeva. Non era pronto, non era pronto. Non era pronto. Infatti, Dolly Kill Kill è il padre di Blue Lock. Se non c'era Dolly Kill Kill, non c'era Blue Lock. Perché in Dolly Kill Kill viene inventato il fantasma, che è il potere presente in Dolly Kill Kill, che viene tradotto in quelle immagini che vengono utilizzate in Blue Lock e che qualcuno pensa che hanno i poteri, ma non sono i poteri. Iki Tosen, invece, è un altro manga molto fanservice, quasi esclusivamente fanservice, ma che fa riferimento alla guerra, si dice, dei tre regni. Ah, quella cinese. Esatto, cinese. E' un ottimo modo per impararla, perché la storia, i protagonisti sono tutti liceali, studenti, e ognuno di loro ha il nome di un personaggio della storia dei tre regni e ne incarna il destino. Quindi, per dire, c'è Lubu, c'è Cao Cao... Tutti ci sono, veramente tutti. Ci sono decine e decine di personaggi e sono tutti guerrieri, pensatori, regnanti, tutto quello che c'è dentro quella storia. E' un modo per impararla, perché se la sai già, praticamente è come se ti spoilerasse... Un po' come Gintama, come quello che hai detto di Gintama della top, no? Gintama, sì. Però è bello, perché se non la conosci, dopo che ti è stato presentato il personaggio nella storia, trovi delle pagine informative, tipo le mini-avventure, collocate come le mini-avventure, che ti svelano chi è il personaggio, cosa ha fatto nella storia e quale è stato il suo destino. Ah, ti dico, guarda... Dopo che li hai visti nel manga. Si fa accesso a una nuova edizione, ma sai che io quasi quasi lo comperei? L'unico problemino è che, non mi ricordo se il finale è chiuso in fretta, come in Dolly Kill Kill, o se è proprio tronco. No, è chiuso in fretta. Formalmente sono finiti tutti e due. Io andrei comunque con Dolly Kill Kill, perché come disegno mi attira molto di più questo, non mi piace a prima vista. E poi è il padre di Blue Lock, quindi io opterei per Dolly Kill Kill. Va bene, va bene. D'accordo. Allora, Tabu Tattoo e Chirara. Guarda, non li conosco, il design di Tabu Tattoo è anche carino, però lascio a te il giudizio. Allora, io ti dirò che Tabu Tattoo li ho letti entrambi, Tabu Tattoo anche a me aveva attirato il disegno, eccetera, ma è una storia confusionaria e poco... confusionaria, cioè sono più i difetti che i pregi, secondo me. Più andava avanti, più veniva voglia di dropparlo. Voterai Chirara, di cui l'ho letto in fase adolescenziale, infatti in adolescenza ho letto diversi manga simili a questo, con la protagonista femminile. Se non ricordo male, sono tutte storie, diciamo, di carattere sentimentale, ma adatte a un pubblico maschile. Non dovrebbe essere uno show. Ok. E quindi, sì, è un tema... le tematiche sono queste, tematiche sentimentali, ma per adolescenti, ecco. E ho disegnato veramente molto bene, a me... io ho un bel ricordo, non mi ricordo la trama, ma ho un bel ricordo a livello sentimentale. Allora direi Chirara. Vai con Chirara, io lo adoravo il video di Chirara. Oh, interessante. Radiant contro People. Sono due grandi manga, però People potrebbe essere uno dei tanti manga, appunto, per un pubblico adulto, un po', capito, erotico. Invece... vabbè, non è un porno, chiaramente. No, questo è un mezzo in kai. Invece Radiant, voglio premiarlo per essere il primo manga non giapponese di successo. E vale tanto, è proprio... insomma, può essere considerato davvero imprescindibile, senza il meme, perché un francese che è arrivato qua, che è tuttora pubblica, è apprezzato in tutta Europa, sicuramente, il mondo è da vedere, è di successo, sicuramente. Sì, sì, sì. Radiant. Per me, cioè, non ho letto tanti euromanga, ne ho letti forse due, forse tre, e sappiamo anche quale, però, cioè, Radiant è veramente uno spettacolo, proprio bello, bello. People è un ottimo manga, ne parlano bene anche i creati o più esperti di me, è molto piccante, c'è dentro anche un po' di psicologia legata, insomma, al tema sessuale, diciamo così, però Radiant, Radiant, deve passare per forza. Andiamo. Due cose molto diverse, comunque. Oh, Air Gear e Butsu Zone, allora, uno, forse il manga più famoso di Great, credo sia più famoso di Inferno e Paradiso, considerando che è il disegnatore, come singolo, considerando che è il disegnatore di Vakemonogatari, Vakemonogatari è più famoso, Butsu Zone, se non sbaglio, è il primo manga di, come si chiama, Iroyuki Takei, però è un po' una minchiata. Io andrei con Air Gear. Assolutamente, Air Gear per me è il, se non è il primo, ma probabilmente è proprio il primo, quello che mi piace di più di questo autore. Cioè, un Tokyo Revengers con i pattini. Secondo me Inferno e Paradiso è più famoso di Air Gear, ma Air Gear è migliore, Air Gear è migliore, secondo me. Butsu Zone è quello che hai detto, secondo me, non merita di passare in questo caso, anche se non l'ho letto, e ammetto che non l'ho letto. Ok, Air Gear, da recuperare, assolutamente. Vabbè, qua abbiamo Solitaire e Skid Dance, Skid Dance è del grande Kenta Shinoahara, un manga che ha fatto tanti altri manga, come l'attuale, come si chiama, lì della magia, non mi ricordo come si chiama, quello che sta uscendo adesso, vabbè. Solitaire, vabbè, su Shokobo, su me è un manga fondamentale, Solitaire. Sì, per forza, per forza, non c'è altro da aggiungere. Allora, Terme Rome e Vigilante, Miro Academia Vigilante. Allora, qua è uno scontro interessante, perché, allora, io sono un grande amante di Miro Academia, Vigilante, tiene il passo di Miro Academia, in certi punti lo supera, poi però finisce Miro Academia e invece si evolve ancora di più. Terme Rome, d'altro canto, nel suo piccolo gioiellino. Non ci crederai, meglio scelgo Terme Rome, perché voglio premiare la bellezza che è Terme Rome. Qua lascio a te, perché non ho letto nessuno dei due, quindi. Per ora. Mi affido a te. Per ora. Per ora. Per ora. Dall'Adventure, Kuro Kono Basket, vabbè, qua non c'è neanche sfida, Kuro Kono Basket, io ho visto solo l'anime, è stato anche divertente, è molto molto per ragazzi. Dall'Adventure è un piccolo capolavoro, un gioiellino. Ora uscirà a volume 8, un altro Euro Mag è imprescindibile. Certo, anche qua non ho altro da aggiungere, quindi ottimo. Allora, High School of the Dead e Crimson Wolf. High School of the Dead, vedi l'anime e basta, Crimson Wolf non conosco. Kishiki Shimoto chi è, il fratello di Masashi Shimoto? Non lo so, sinceramente, potrebbe anche essere, prova a verificare. No, non c'è tempo adesso. Crimson Wolf è un manga brevissimo, pochissimi volumi, non mi ricordo quanti. Carino, se volete un autoconclusivo breve e carino è bello. Guarda, essendo DGP manga non credo sia reperibile. Ok, High School of the Dead è interrotto perché è morto quello che scriveva la storia, mi pare. Mi sa che erano fratelli, forse, se il cognome vuole. E l'altro ha continuato invece a disegnare un altro manga che è Triage X. Allora, è un bel manga di zombie, classico proprio da Apocalisse e Zombie, pieno di fanservice, tra pieno di fanservice e questo è, è pure interrotto. Quindi io direi, purtroppo ha tanti limiti per questi motivi, insomma diciamo così, è interrotto. Chi è che sto legge una roba interrotta all'inizio, fra l'altro? E con troppo effettivamente fanservice, fra l'altro solo di zombie che fra l'altro non mi piace neanche come tema. Parte Zombie 100, ma ne parleremo, probabilmente. Ma quella è diversa. Tenderei a far passare Crimson Wolf. Andiamo. E' un po' il suo posto, breve ma completo. Come sopravvivere all'Era Sengoku contro Nisekoi. Allora, sono entrambi i manga che ho letto, io non so te. No, non li ho letti, ma conosco solo... Ok, Nisekoi è finito da tempo, e va bene, è simpatico. Come sopravvivere all'Era Sengoku, invece, sono fermo al terzo volume perché Goen è un po' pazza. E quindi proprio quel poco coletto è davvero bello perché è un isekai dove questa ragazzina, chiaramente delle superiori, sia chiara, è una storia pubblicata su rivista seinen, quindi diciamo un po' più pesantina rispetto al classico isekai. Pesantina nel senso non ci sono combattimenti, è un manga sull'agricoltura, come c'è scritto qua. Lei viene catapultata nel periodo Sengoku dove si incontra con Nobunaga, il famoso condottiero giapponese. e lui la sfrutta per coltivare, la sfrutta nel senso nota che lei ha delle tecniche incredibili di agricoltura perché lei studia agraria e quindi, cioè, ci immagini di andare nel passato con le conoscenze di adesso, semplicemente, no? E' molto bello. Io su questi posso dire che Nisekoi, i personaggi hanno dei tratti che mi ricordano un po' i personaggi di Okubo. Vero, vero. La faccina, sì, sì, sì. del come sopravvivere nell'era Sengoku è famoso, cioè, mi è noto proprio per la sua originalità e, fra l'altro, da quel che vedo in copertina il disegno deve essere anche molto bello, quindi io voterei. Normale, niente eccezionale, però è bello che ti dà proprio nozioni sull'agricoltura, su come coltivare certi alimenti, cioè, non che ti riguarda, però è bello, eh. Un po' il dottor stone dell'agricoltura. Certo, sì, o il sanpei dell'agricoltura, più che altro. Ah, Blue Period contro il guerriero alchemico. Allora, Blue Period è un manga che adesso sta andando molto, ma non l'ho proprio considerato. Volevo guardare l'anime, ma ne ho parlato male, quindi va bene, sì, insomma. Guerriero alchemico, mai letto, però, considerando che è di Nobujiro Watsuki, lo stesso autore di Kenshin Samurai, il guerriero alchemico mi puzza di essere arrivato prima di Fullmetal Alchemist. alchemist. E One Piece esiste grazie a Nobujiro Watsuki, perché era il, era un, come si dice, era il maestro di Oda, sì, nel senso era il suo aiutante. Direi che è più fondamentale quello del guerriero alchemico. Va bene, va bene, ci sta, ci sta. Sì, poi non andrà un po' avanti, però, giusto per... Anche perché non ho letto nessuno dei due, quindi, ci sta. Ah, Sensei è dello Scanvass e Bilzebub. Allora, Bilzebub lo conosco di fama, era uno di quei manga che andava nel periodo metà anni 2000, cioè nel 2010, quel periodo lì andava molto Bilzebub. Che lo si dice in Jump, tra l'altro, mai cagato. Lo Scanvass è quello che mi ha fatto avvicinare a Sensei, è fantastico, proprio meglio della serie classica, meglio di qualsiasi altra serie, perché è l'unica disegnata bene. L'unica serie dei Cavalieri che ho letto anch'io, quindi io lascerei, farei passare. È fondamentale, secondo me. Ah, vabbè. Aia. Dead Tube non lo conosco, però dimmi tu. No, vabbè, la sfida è impari, comunque, per quanto tocchi le mie corde. Forse magari lascio la parola a te se vuoi dire qualcosa, ma se seguite questo canale sapete già tutto. Dead Tube è una bella idea, vabbè, parla praticamente di un canale tipo YouTube, però ha contenuto molto splatter o molto piccante, è poco, insomma. Sono contenuti, come si chiamano quei, snuff film, no? Sono quei contenuti snuff, quindi un canale YouTube dedicato a quel tipo di contenuti lì, quindi altamente sessuali o altamente violenti, estremamente violenti. All'inizio è molto, molto bello l'inizio, perché ci sono delle, più che dei misteri, delle rivelazioni scioccanti, cioè ci sono proprio delle cose che mi hanno stupito. E poi l'autore ha cercato di mantenere questa cosa, di stupire il lettore, costantemente. Però pian piano diventa meno efficace, insomma, non riesce a sorprendere il lettore così tanto. Quindi alla lunga tende, secondo me, un pochino ad annoiare, perché poi, insomma, è sempre quella, no? Però i personaggi sono molto interessanti, per l'altro sono i due che si vedono in copertina e vengono portati avanti costantemente. Però cala, per me cala. Invece Fire Force, Fire Force invece sale sempre di più, perché io devo ancora leggere il finale e tutti mi dicono che il finale è una bomba atomica fatta a manga e quindi Fire Force. Da qualche settimana finisce anche te. Dunque sia andato che siamo già a 18 minuti, direi di essere un po' più concisi, sennò puoi dire troppo lungo, dai. Diamo le motivazioni per il sì o per il no. Solitaire Not, Assassination Classroom. Allora, come sfida, io conosco entrambi, letto entrambi, carino assolutamente, quello di destra, anzi è molto originale, ti dirò, ma Solitaire Not, proprio perché è vistattato, nonostante io lo trovo molto molto carino, per me è imprescindibile. Se leggi Solitaire, leggi Fire Force, leggi anche Solitaire Not, non lo schifo. Ok, io ho letto Assassination Classroom, mi è piaciuto, però per me va bene la tua scelta, perché non è imprescindibile, però è bello. È divertente. Allora... Ok, qua vado io, se vuoi accelerare. Se Ranma ho visto l'anime, io voterei lui, chiaramente. Lo conoscono tutti. Parasite Doctor Suzune invece è un Entai, e quindi, insomma, non perché gli Entai siano meno, però la storia è quella di un Entai. Non è neanche concluso in Italia, quindi Ranma è facile. Mi chiedo perché sia in questa lista imprescindibile, però... Però, cioè, lo votiamo. Andiamo, Ranma. Allora, Gleipnir e Nogami neuroinvestigatore demoniaco. Allora, io direi assolutamente Gleipnir. Ottima storia. Gleipnir è imprescindibile, va a letto. Difficile da recuperare, ma è bellissimo. Io devo leggere... Adesso... Sta finendo adesso, dovrebbe uscire l'ultimo volume, e capolavoro a me piace tantissimo. Se volete sapere qualcosa di più su Gleipnir, fatemelo sapere. Esatto. L'altro non lo conosco, quindi... Poco famoso. Vabbè. Allora, mi dispiace perché tu ami Kakegurui. Ottimo manga. Non so se ti è piaciuto dall'inizio alla fine, ma Maghi è l'emblema. Fai conto che One Piece, nell'ultimo capitolo, ha anche copiato Maghi. Quindi direi che sarà imprescindibile questo. No, passa Maghi anche per me, perché per quanto Kakegurui mi piaccia molto, per la tematica delle sfide, delle scommesse, la tematica delle scommesse è molto bello, però diventa molto ridondante. I personaggi sono belli, però Maghi, pur non avendolo letto, so di cosa parla, per me vale di più, insomma. Ottimo. Vai pure. Crazy Joe e Jagan. Crazy Joe, Crazy Joe che lo sia il primo, secondo manga che lo prima, però di quei ricosti, autori di Mera Academia, è un po' una cagatina. Jagan, invece, simile a Tony Kill Kill di prima, che era disegnato dal disegnatore di Blue Lock, questo è scritto dallo scrittore di Blue Lock. Esattamente. Ed è appena finito in Italia? È finito da pochissimo in Italia, sì, è molto bello, e non c'è niente da dire. Per me, non lo conosco Crazy Joe, però Jagan posso dire che vale. Lo consiglierei. Assolutamente, andiamo avanti. Allora, Anded Alack, Gakko e Neven, conosco solo di fama il primo, ma decidi tu. Nel secondo conosco solo l'autore, perché penso di aver preso più o meno tutto di Eugene, perché è un autore praticamente dieci. Non mi ricordo assolutamente la trama, quindi penso che sia più che secondario, come tra i suoi titoli. Anded Alack me ne hanno parlato, e sono tentato di prenderlo, quindi voterei. Andiamo su di questo. Comunque sta ancora andando, non è ancora cancellato, quindi... Allora, Burn the Witch, Black Cat. Burn the Witch l'ho apprezzato parecchio, sequel di... cioè sequel, secondo manga famoso... Vabbè, manga di Tito Kubo, ok. Black Cat, insomma, è il capolavoro di Kentaro Yakubuki. Bellissimo, imprescindibile. Anche secondo me, anche perché è un pezzo di cuore, l'ho lasciato in Black Cat. Mi è piaciuto molto. Allora, due due manga, High Shield 21 e Prophecy. Prophecy non è il mio preferito di Tetsuya Tutsui? Ottimo autore, High Shield mi ha stregato. Bellissimo. Murata... Non ho letto... Ok. Murata, il disegnatore di One Punch, e Ninagaki, lo scrittore di Dr. Stone. Infatti, io non ho letto nessuno dei due, però High Shield lo conosco abbastanza bene, perché conosco l'autore, conosco... Vabbè, la trama è anche... Possiamo dire il miglior manga sul... sul futuro americano. Sì, possiamo dirlo. Possiamo dirlo. Quindi lo farei passare. Sì. Ah, beh, qua. Bobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobob Pandorazio è un altro di quei manga sempre nelle top delle ragazze non so perché ma piace molto le ragazze credo che anche questo sia uno shonen però poco conta One Piece Party mi fa cagare lascio a te perché a me One Piece Party fa ridere ma qua è qui secondo me in maniera estremamente memosa quindi non lo potrei va bene va bene ci sta Shaman King con finale tronco o origin origin ho letto due volumi mi è piaciuto ma non ho più trovato il terzo l'ho mollato Shaman King per me Shaman King dovrebbe passare ancora di più se è Shaman King con il finale tronco perché è l'unico Shaman King non forzato dove l'autore è rimasto fedele a se stesso ha detto ma avete rotto il cazzo lo chiudo in fretta e furia ma rimango fedele interessante questo due manga sullo spaccato di vita zapponese Zombie 100 e Samidare allora Samidare per esempio Zombie 100 Zombie 100 è molto attuale attuale per il Giappone ovviamente non viviamo in quel mondo lì non si basa sui zombie se uno non lo conosce ma su bene ci sono i zombie ma una cosa secondaria diciamo allora è molto originale Zombie 100 allora intanto ti consente di conoscere il Giappone a 360 gradi perché praticamente ti fa vivere tutto il Giappone attraverso tutta una serie di esperienze che il protagonista vuole fare è molto originale perché sostanzialmente il protagonista si trova in un apocalisse zombie e la vive come un'opportunità piuttosto che come come dire è un rischio insomma cioè per lui è meglio l'apocalisse zombie della sua vita di prima quindi è molto bene sì perché ora va in ufficio poi lo scrittore è lo stesso di Alice in Bordel un'altra ottima opera dai buttiamo zombie 100 e via sì vabbè volevo spendere due parole ma no si potrà salutare però clamorosa comunque va bene allora questo è un bello scontro I Silent Voice è una bellissima storia che ti consiglio non l'hai letta vero? no ok praticamente è una storia che è divisa in più parti cioè in più fasi dell'età di questi oh nel senso non è un unico anno ma in più anni è svolto ok più momenti della vita di questi ragazzi dove lei è una ragazzina sordomuta e viene presa per il culo a scuola elementare anche dal protagonista dal co-protagonista anzi apprende che certe persone hanno un apparecchio acustico per provare a sentire qualcosa glielo toglie proprio per prenderla per il culo era proprio un bullo nel crescere la rivede e per tutto il tempo si è sentito in colpa di questo lei ha lasciato la scuola è diventato lui può essere quello bulleggiato quindi è un manga proprio sulla crescita di questo ragazzo contro il bullismo e a quello che prova lei essere stata bulleggiata si dice vittima di bullismo bullizzata scusami vittima di bullismo per tutta la sua vita e proverà a fare atti estremi nintama è un capolavoro ma cosa scegli sono curioso vabbè io t'ho parlato così tanto del silent voice per dire che è molto ottimo ma nintama nintama c'è nintama c'è nintama ha tutto non c'è altro da dire nintama ha tutto allora detecli conan zero stitime il miglior spin off di conan ne posso dirlo perché ne ha tre o quattro zombie powder il primo manga di titekubo per quello prima nintama col dire il secondo manco di titekubo ok e vabbè non li conosco detecli conan zero stitime ottimo manga ottimo manga protagonista muro il miglior personaggio di conan andiamo pure avanti va bene imprescindibile secondo me oh un po' come una grande avventura sayukiden sayukiden non ho letto di due sayukiden neanche io non l'ho mai trovato in realtà però i disegni sono molto belli cercate cazzo di a tirare su google disegna da dio un po' come una grande avventura ho letto 11 volume mi pare o 11 o 13 o una roba del genere comunque sono a quarto cofanetto ed è davvero bellissimo sono un attimo interrotto però è bellissimo sto manga gli amanti di pokemon non possono leggere un po' come un advento questo è davvero imprescindibile per gli amanti di pokemon no meme ok e quindi basta va bene ah bugie d'aprile noise allora mi conosco scopi fa ma non aggiungo altro io l'ho visto sono l'anime stupendo l'anime il manga ha riuscito anche dei premi nonostante cioè si bada sulla musica ma la musica non la senti e invece noise è il mio manga preferito di ttsutsui mi ha colpito parecchio poi c'è un fico che mi fa sempre ricordare Roberto Mercadini nel suo video sui fichi quindi direi andiamo con noise Eh beh, sì, grazie a mercadini Allora Qua vado io dai Sì, conosco di fama il primo Ma non li ho letti, vai vai Allora, Elemental Gerard Vabbè c'è anche la versione blu Oltre a questa rossa Semplicemente assomiglia un po' a Come si chiama, su Litter Perché ci sono dei ragazzi Che utilizzano delle ragazze Come armi, cioè si trasformano in armi Le ragazze Solo le ragazze Sì, mi pare che siano solo ragazzi Che utilizzano ragazze come armi Esatto, che si trasformano in armi Non mi ricordo nient'altro, questa è l'unica cosa che ricordo La spada e la mente È un manga breve di qualche volume Con protagoniste I loro due, praticamente la mente È questo ragazzo chiacchierone ma molto intelligente Che ha questa parlantina E questa capacità in qualche modo di Come dire Imbrogliare anche la gente O comunque, insomma, c'è una parlantina È una persona intelligente Diciamo Mentre lei è semplicemente Una Una spadaccina Silenziosa È molto abile Ecco La storia si può riassumere Nelle loro caratteristiche Ecco Non è il Dottor Stone Nel senso è un misero volume Kinnikuman ha fatto la storia È imprescindibile sebbene in Italia non sia disponibile Va bene Kinnikuman è Kinnikuman In qualche modo va letto Mahime e Spirit Circle Guarda qua andiamo veloci Mahime ricordo poco e niente Spirit Circle è un mezzo capolavoro Se non un capolavoro completo Soprattutto visto che prima non hai fatto passare Samidare Che comunque è un'opera incredibile Spirit Circle meno conosciuto Per me è ancora più bello Di Samidare Va bene Leggettolo perché è proprio bello Vabbè Tanto stessa casa editrice Flashbook Miruko-chan e Lamu Io qua vorrei fare Una Un'affronta Rumiko Takashi E votare Miruko-chan Che è un manga di adesso Molto bello Si può stare Lamu sappiamo cos'è Miruko-chan È appena iniziato Io lo sto leggendo È in corso E lo adoro Un po' per l'idea Nel senso che lei è una ragazza Che vede gli spiriti Ma finge di non vederli Per non essere da loro attaccata Quindi vive nel terrore costantemente Ma deve nasconderlo Perché se gli spiriti I demoni Vedono che lei Li vede La possono aggredire E quindi è molto Mi piace Perché mi ricorda un po' Comic-Con 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 Ok E i disegni dei demoni Sono bellissimi Questo va preso Solo per questo motivo qua Secondo me Quindi ci sta Facciamolo Passare La regina d'Egitto Ascolta La regina d'Egitto Mi è piaciuto davvero tanto Si perde un po' Negli ultimi numeri L'edizione italiana Figa Perché sembra Papiro Noto Stone Il manga È imprescindibile Sì Non serve aggiungere altro Adventure Scusa Adventure Vabbè Blue Lock Vabbè Vai con Blue Lock Non stiamo qua neanche a raccontare Infatti Infatti Toriko Inferno e Paradiso Con quanto abbiamo detto prima Toriko Bello Un po' La copia di Dragon Ball Infatti un po' Strano Con il cibo Poteva essere interessante Inferno e Paradiso A quanto pare Detto da te È il manga di O'Great Sì Sì Va letto Fra l'altro Scoprite anche Tutta la storia Gran parte della storia E della mitologia Del Giappone Grazie a Inferno e Paradiso Ce lo leggete In un flashback Fra l'altro Nuvole Nord Ovest E Dead Man Wonderland Tu hai letto qualcosa? Io ho letto Dead Man Wonderland Mi è piaciuto molto Sia la storia Che il disegno Però non so Se a livello Di Nuvole Nord Ovest Allora Dead Man Wonderland Lo conosco Perché questa qua L'hanno fatta In tanti cosplay Quindi la conosco Per quel motivo lì Ma non so niente Nuvole Nord Ovest Lo sto leggendo Anzi Ho appena letto L'Ulume 6 Che l'ho messo anche nel video Non so se si l'ha già visto Ed è molto bello Un disegno di Akiri E sono top Quindi tu Ok Sì sì Si può stare Monster Girl Battle Club Questi li conosco io Allora ve li racconto Molto brevemente Monster Girl È una storia Di yokai Cioè Protagonista maschile Ragazze Ragazze Ragazzine Tutti gli altri personaggi Sono ragazze Comunque E ognuna di loro È uno yokai Quindi lui si circonda Pian piano di yokai Ottimo Ottimo Invece Battle Club Parla di Di Wrestling Praticamente E è un gag manga Molto molto divertente Dipende Allora Se vi piacciono gli yokai Monster Girl Se vi piace Ridere Battle Club Fa molto molto ridere Forse voterei Battle Club Perché fa molto ridere Dai va bene Va bene Sì Dai ci sta Allora È più vecchio Battle Club Allora Qua è complicata Perché Food Wars Ah io Guarda Ti voto tutto Ritman Reborn Sono due manga Che mi piacciono tanto Ma Reborn Mi è rimasto più impresso Ah mi dici vagamente Di cosa parla Visto che non lo conosco Reborn Reborn Ah praticamente Parte come Proprio un gag manga Di vita quotidiana Scolastica Poi cambia un po' L'idea probabilmente L'autrice Akira Mano E il protagonista Si chiama Tsuna Che al contrario Di Natsu Che vuol dire State Tsuna si chiama È un erede Di una famiglia Mafiosa Chiamata Famiglia Vongola Quindi ci sono Molti nomi italiani E per eredità Il controllo Di questa famiglia Quindi ha dei nemici Di altre famiglie Mafiose O altri Membri di questa famiglia Che vorrebbero essere a capo Quindi si circonda Di persone Un po' Tipo One Piece Dove ogni membro È Ha un potere Legato al protagonista Perché si basa tutto Su Il potere Del sole Quindi il capo Della famiglia Vongola Ha il potere Del sole Tutti gli altri Membri della famiglia Vongola Che non sono proprio Della famiglia Sono amici Magari Hanno un potere Derivativo Di un momento Climatico Come si dice Uno c'ha il potere La tempesta Uno della nebbia Uno proprio Del sole Uno Della pioggia Eccetera Eccetera Quindi Molto colorato Ci sono viaggi nel tempo Per esempio Questo qua Era un killer Della famiglia Vongola Che è stato Rimpicciolito Per un motivo Quindi non è davvero Piccolo così Non è un bambino Ok Ho detto tanto tempo fa Mi facerebbe una nuova edizione Oh Allora Qua dico io I miei 23 schiavi Contro la principessa Cadavere La principessa Cadavere A me Allora è molto bello Può piacere a molti Ma a me Sul lungo andare Ha annoiato Anche qua Ci sono delle coppie Monaco E Cioè Sì Ime Quindi Principesse Sono morte Riportate in vita Sostanzialmente Che combattono Per questi monaci A me ha annoiato Sul lungo andare Invece I miei 23 schiavi È molto bello Non è quello che si penserebbe Vedendo la copertina L'ho scoperto gradualmente È una storia Che non vi racconto Ma che è molto originale E sono storie Intrecciate Quindi non ci sono Dei protagonisti Ci sono tante storie Di tanti sottogruppi Di persone Coppie Tante storie Che poi Si incontrano Si intrecciano Tutte quante È veramente Molto Molto bello Secondo me Molto originale Quindi vado con questo Quindi vado con quello Death Shield Shadow Lady Vabbè Shadow Lady Va bene Direi che è abbastanza Marshall Geo Geo Breeders Geo Breeders Penso Allora Credo che nessuno di cui Sia fondamentale Però Marshall Forse è un po' più Piacente Anche perché Geo Breeders Dopo il volume 8 Penso che sia Introvabile in Italia È uno dei primi manga Che ho collezionato E sono arrivato È il primo manga Che mi si è interrotto Quindi Marshall Per questo momento Marshall dai Molto bellino Marshall Gachi Akuta Appena uscito Astralost in Space Kent Hachinois Lo stesso autore Di prima di Skate Dance Che ancora non mi viene in mente Il manga che sta pubblicando adesso Vabbè Fa niente Ah Witch Watch Si chiama Ok Astralost in Space È bello Perché le ambientazioni Spaziali sono fighe Ma dura 5 4 5 volumi Una roba del genere Molto breve Gachi Akuta Sembra la nuova promessa Dello show Quindi andiamo con Gachi Akuta Dai Vediamoci Golden Camus Il signore dei mostri I signori dei mostri Golden Camus È un capolavoro Il disegno Vale solo quello E so che non è solo disegno Ma è anche storia Quindi Assolutamente Golden Camus Senza colpo ferire Oh Il cane che guarda le stelle V Exorcist Allora L'exorcist Ho visto l'anime Tanto tempo fa Mi piacerebbe leggero Perché È con lo shonen Molto Tranquillo Nel senso Un interi esagerato Un po' dark Alla Soul Eater Comunque lui è il figlio Del diavolo E E quindi È un po' È un po' Come fare forza Anzi È un po' Bistrattato Per essere il figlio Del diavolo Capito Perché lui Fa l'esorcista Gli esorcisti Esorcizzano I demoni No Lui essendo il figlio Di satana È un po' Un problema Poi c'è La cosa della fiamma blu La spada è molto Figa e iconica Il cane che guarda Le stelle Di Takashi Murakami Mi ha fatto proprio piangere Io il cane Non l'ho mai avuto Io andrei con questo qua Diciamo È unico Nel suo genere Come due esorciste Se ce ne sono Allora Angel Vabbè Qua veloce Prison School Prison School Per forza Perché è un po' Tutissimo capolavoro Angel è un altro manga Di Eugene Come vi raccontavo prima Prison School È da leggere È da leggere Assolutamente Ahia Qua bella sfida Però posso parlare Solo per Sampei Perché Kingdom Purtroppo Non l'ho mai letto Però neanche te Quindi seguo te Dai L'ambientazione Sembra molto figa Ma Sampei Ha fatto la storia E questa edizione qua È fantastica Kingdom Lo scopriremo Quando se lo leggeremo Black Clover E Juliet Allora un altro Magari Yuji Magari di Yuji Ci sono Vabbè È infatti strana A Black Clover Non l'ho mai letto Mi attira tantissimo Deve essere un fairy tale Nei tempi Di tempi Che non esistevano Di Camelot Quindi ho miso Tassi Avendo a distinzione Fairy tale Comunque Juliet Forse è il primo manga Che ho letto Forse È sicuramente Il primo manga Di Yuji Che ho letto Che poi mi ha portato A leggere praticamente Tutto di Yuji Ma per motivazione Il fatto che è un ecci Disegnato bene Carino Simpatico Non credo che Forse Black Clover Merita di più Sì Dopo un po' L'ho mollato Era carino Ti dico che è un Gio 6 Che è raro Gio 6 in Italia E il mondo di Rani Invece mi è piaciuto tanto Molto bello Poi è concluso In sette volumi Bello Dal inizio alla fine Quindi? Sì sì Certo Gantt e Sakura Mail Vabbè dai Dai Sakura Mail No Non è niente di speciale Gantt a me Tanti lo criticano Anche molto aspramente Però per me A me è piaciuto E non mi lamento Neanche del finale Mi lamento Se mai dell'intermezzo Sui vampiri Che si poteva togliere Era anche meglio A me Gantt piace Quindi voterei Gantt 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 sì sì The Climber e Flash Di Masashi Tanaka Dai Allora Shinji Sakamoto È davvero Un grande autore Rende meglio Su storie Non scritte da lui Ma Le adattate Per esempio Sa la storia Di Gironita Immagino fosse un libro Se non sbaglio E Shinji Sakamoto È davvero Un grande mangaka The Climber Sì Flash è un ottimo manga In tre volumi Molto Bello e divertente Però dello stesso autore C'è di meglio Quindi anch'io Andrei con The Climber Disegnato Capolavoro Anche solo Per il disegno Pride Agartha Non so Se tu li ha letti Ma Pride Insomma è anche più bello Di Captain Tsubasa È lo stesso autore Chiaramente Agartha È molto bello Però purtroppo È incompleto In Italia Quindi vai pure Con Pride Però Agartha Meritava molto Pride è concluso In quattro volumi È concluso Soltanto grazie a Ivan Che ha insistito Sul farlo continuare Perché tra il primo E il secondo volume Sono basati tipo 4-5 anni Una roba del genere In Italia Perché sai Gohan è Gohan Pride Medakabox Bungo Stray Dogs Conosco solo di fama Bungo Non so te Sta andando ancora Va molto Medakabox È bellissimo Io li conosco di fama Tutti e due Ma Più del titolo Non so Quindi Vai pure Medakabox È È la parodia Di Shonen Shonen Battle Adeliero WeChat Come è scritto WeChat Ce n'hai in più E Free Eren Allora Molto simile Perché entrambi Trattano comunque Di magia Loro Sono entrambi Molto Come dire Non la rendono semplice Questa magia È ricercata Qua si tratta sempre Di grimori E qua la magia Va disegnata Quindi la magia Te la credi tu stesso E Quindi vorrei premiare Proprio questo Anche perché Lo stile Di D'impaginazione Di questa Kamome Shirama È fantastico Proprio come mette giù le tavole È unica Nel suo genere Free Eren è molto bello Ovviamente Tanto bello Anzi Tanto 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 Atelier of the WeChat La legge di WeChat O Detective Tsubaki Sono due maga che ti ami tanto Io voterei La legge di WeChat Però lascia decidere te Perché sono Allora Sono due Dei manga Che più promuovo In assoluto La legge di WeChat È probabilmente Uno degli shonen Più belli di sempre Ha alcuni elementi Secondo me Di One Piece E alcuni elementi Di Jojo Perché ha O forse Di entrambi in realtà Perché ha dei poteri Strambi Interessantissimi Curiosissimi È proprio Uno shonen Con L'idea del torneo Per esempio Detective Tsubaki Ha delle tematiche Più adulte Ha un sacco di riferimenti A mitologia Sconosciuta Del Giappone Non quella mitologia Da quattro soldi E è disegnato In maniera Incredibile Però ho dato Il pubblico medio Anche di Curoteo Suggerisco La legge di WeChat Poi che altro Spinge sul fatto Di riciclare Comunque Mi sembra una cosa positiva Sì perché lui Ha il potere del riciclo Che fra l'altro Gacciacuta Secondo me Un po' Prende anche Dalla legge di WeChat Poi qua c'è anche Il cestino Le tematiche ambientaliste Comunque sono le stesse Demoslave Platinum End Allora entrambi Mangi Lasciami dire una cosa Perché Platinum End Ha una cosa In comune Con la legge di WeChat Nel senso che Entrambi Hanno come obiettivo Individuare Il nuovo dio C'è un'elezione C'è un modo Per individuare Il nuovo dio del mondo Chi deve diventare dio E quindi hanno Questa cosa in comune La legge di WeChat È un capolavoro Platinum End È una mezza Ciofeca Demoslave Sebbene l'ho droppato Allora votiamo Demoslave Droppato Messi in pausa Vediamo Ecco Extract di Del buon Fossilione Guastafierro E War Trigger War Trigger È un manga che in Giappone Va Ma in Italia Dai Putiamo Extract Va bene Extract è uno In Italia Ma non in Giappone Eh sì Anche se purtroppo Non uscirà mai Un sequel Full Metal Panic Magical Girl of the End Magical Girl of the End È un bel manga Ma di qualcosa Su Full Metal Panic Se ce l'hai Perché io non lo conosco Se non mi fanno Magical Girl of the End Basta Magical Girl of the End È fantastico A me piaceva tantissimo Allora andiamo È un manga Che fino a quando Non ti svela tutto Ti tiene incollato Ecco qua Altri due manga Che conosco io Allora Triage X È un È solo Ed esclusivamente Fan service Con il tentativo Di metterci una trama Dietro Ma non è il fan service Quello È un fan service Che però ci crede Che fa il serioso No Allora se mi fai Il fan service Come dire Da buzzurro Va bene Ma no È un Quindi Triage X È un fan service Inutile Invece Murcielago È molto originale La protagonista È una killer Schietatissima Potentissima E anche È lesbica Che è una tipologia Di personaggio Che non ho mai visto Prima di questo manga In un manga Appunto Un personaggio Vabbè Nana Vabbè Comunque per me Murcielago Passa Tranquillamente Per quanto Triage X È disegnato anche meglio Allora Sankerrock E Ruiro Sankerrock Che non sia l'opera Più famosa E apprezzata di Boichi Ruiro È un manga Fatto a Kira Iramoto Lo stesso di Prison School Ruiro Se lo sbaglio È stato interrotto O sbaglio Sì Ruiro Sì purtroppo È stato interrotto Perché aveva il potenziale Per superare Anche Prison School Forse Però Causa interruzione Non ha avuto Questa occasione Sankerrock Che è il manga Di Senku Di tutto il giorno Adulto Però Ce l'ha reso famoso Almeno ai miei occhi Quindi andiamo Con super Rock Youcham for stream Freak Island Freak Island È quello lì Del Vabbè Dino tu Perché me ne hai parlato Freak Island Purtroppo Penso sia interrotto In Italia Io lo sto proseguendo In scan È molto interessante È grottesco Aiutami a dire grottesco Grottesco La storia come raccontata all'inizio sembrava banale Ma in realtà cresce molto E diventa sempre più interessante Io l'ho già consigliato Quindi lo consiglierei Youcham È Youcham È un volume unico Di Volpesco Dai Votiamo Per spingere un po' Volpesco Che ha bisogno Abbiamo spinto Caverna Spingiamo anche Volpesco Va bene Tomodachi Monster Conto l'eroe morto L'eroe morto L'ho visto molto spesso in giro Però Tomodachi Monster È la fusione Tra Il gruppo di Dario Ovvero Tomodachi E il nuovo progetto di Dario Ovvero Monster E praticamente viene promosso Come una storia di Pokemon Però crudeli Sostanzialmente Bello Ecco Però l'eroe morto È veramente molto originale È molto interessante E Votiamo l'eroe morto Dai Va bene Anche perché Tomodachi Monster Dai l'ultima sfida E poi ci velocizziamo Bjork Trinity E Seven Deadly Sins Ah Sempre great Bella la copertina arancione Però Seven Deadly Sins È davvero molto bello Questo è un È un great Ma la storia È di Otaro A un certo punto Mi ha deluso Però nel complesso Un bel manga Mi ha emozionato parecchio Ma sì Quindi qua terminiamo Non abbiamo Abbiamo trovato questi 128 Sono rimasti fuori Qualche altro manga Imprescindibile Tipo Banalmente My Hero Academia One Piece Berserk 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 Monster Mi ha emozionato Mi ha emozionato tanto Tanto bene Antonio E mi attira tantissimo Ho paura che possa piacermi più Di Atelier Ma Atelier È proprio una cosa unica Tanto Cioè Non è paragonabile Altre manga Secondo me Vota tu Sai che io Voto Sì Però Mototelier Va bene Lo Scamas Mi Roco Chan Anche qua Potrebbe piacermi questo Ma condividiamo Lo Scamas Lo Scamas È un unico Questo lascio votare te Guarda Eh Qua è un po' difficile Però Sempre per una logica Di puntiamo Verso il futuro Piuttosto che rimanere Sempre ancorati al passato E facciamo conoscere Roba nuova Che magari Non è Imprescindibile Veramente Ma secondo me Andrebbe letta Magica Girl Ok Anna Kauru Sì certo Anna Kauru Solither Not Questo Ha il suo merito Ma Solither Not È davvero Una bella chicchetta Giusto per È Solither Senza trama Con protagoniste Te ragazze lesbiche Senza trama Vuol dire Ah lesbiche sono Guarda Non è esplicito Perché comunque È uno shonen Però C'è una sorta Di relazione a tre La protagonista È lei Quei capelli neri Ma entrambi sono Chiaramente interessate A lei Lei è la Weapon Master Loro sono le armi Ma lei deve Scegliere le due Perché tu Vedi soltanto un'arma Per avere l'anima In risonanza Forse Certo Vediamo No A me è piaciuto parecchio Perché è un Solither Disegnato dopo Solither Chiaramente Dove l'autore Occupo Sapeva disegnare E quindi vedi L'inizio di Solither Disegnato bene Però E guarda I miei 23 schiavi Ne hai letto solo te Io voterei Nuller Dove Se sei d'accordo Sì dai Sono sicuro Che ti piacerebbe Qua è un duro colpo Ma Gintan È proprio un alto livello Reborn è carino Bello Mi ha fatto provare Belle emozioni Ma Gintan Capolavoro È imprescindibile Va bene Qua L'abbiamo detto entrambi Che non l'abbiamo ancora letto C'è l'anime Voglio guardarlo L'anime Per curiosità Sunpei Capolavoro Beh va bene Il Kill Kill e Sunpei Con la M Può smettere anche di farlo Dolly Kill Kill Chi rara Dolly Kill Kill Sì dai Facciamo Dolly Kill Kill Siamo a 50 minuti Comunque Vabbè Dai Radiant Radiant Bello Terme Rome Radiant 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 Questa è una bella Sfida Allora Facciamo passare Prison School Che tanto abbiamo Fire Force Che ci salva Va bene Va bene Lo faccio per te Giusto perché Sono due stili diversi Martial e Pokémon 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 è unico Nel suo genere Martial Ce ne sono altri Ecco Seven Deadly Sins Questo è passato Perché l'altro Era peggio Però Non è niente di eccezionale Bellissimo Come ho detto prima Fire Force Fire Force E vince Cioè deve andare avanti Di Graeme e Jagan Considerando che Di Graeme Non l'abbiamo mai letto Jagan Invece sì Voteremo Jagan Va bene Sono d'accordo Stesse motivazioni Io l'ho detto Io l'ho detto Io punto Air Gear Perché voglio Che lo conosca Più gente Secondo me È un Inferno Paradiso Plus Ma poi si vede Che è disegnato dopo Perché qua Il disegno è molto Piacervo Sì sì Ma lì anche La stampa È meno curata Per quello che Si vede La risoluzione È migliore Porco Questo Qua io voto Zombie 100 Perché so già Come va avanti So com'è Gaccia Acuta Ho letto sul primo volume Non posso dire meglio Gaccia Acuta Senza sapere come continua Potrebbe esserlo Però Ad oggi Sono d'accordo Con le motivazioni Inutile portarla avanti Così tanto per Molto bello Ma ok Maghi Tranquillo Chiaramente Su Maghi C'è un video sul canale In compagnia di Michele Mari Un grande sostenitore Di questo manga Qua Conan Easy Eh Dai dura Per imprescindibilità Che Nikuman Vai va bene Però Spirer Circo Leggetelo Ragazzi Sappi che Uscirà Una vastiera animata Sukini Come adesso Vedo l'ora Ma Spirer Circo Loro sono adulti Per curiosità Allora Spirer Circo Sono Continue Rincarnazioni Di 4-5 personaggi In Decine Di scenari Diversi Del passato E del futuro Sembra molto carino Hanno anche Età diverse Quando passano Da un periodo Da un contesto All'altro Quindi Non ho la risposta A questa domanda E questo è il suo bello Interessante Comunque Sì Vabbè dai Shaman King Ok Assolutamente Mondo di Ran Demos Slave Mondo di Ran In 7 volumi Sa concludersi L'autrice Akiri È molto lenta Nella racconta La storia Non è che Butta tutto Ok È un tipo Di Di manga Che si prende Sui tempi Li prende bene E conclude Demos Slave Non so per quanto altro Possa continuare Però appunto Per questo motivo Voto il mondo di Ran Perché Demos Slave Potrebbe anche Continuare all'infinito Con Cazzate Demos Ha saputo Essere concluso Black Clover La legge di Weki Per l'importanza Del riciclaggio La legge di Weki Ti direi E anche perché È sicuramente Superiore Per me Yochan L'eroe morto Ma io farei L'eroe morto Perché In Yochan C'è dentro Praticamente Il fanservice Che c'è anche Nell'eroe morto Quindi È superiore Ok All'eroe morto Dall'Adventure Shadow Lady Shadow Lady Masakatsu Katsura Mangaka di livello Però Dall'Adventure È imprescindibile Leggete Dall'Adventure Cazzo The Climber Black Cat È una bella sfida E Non lo so Sono entrambi Due grandi mangaka Sakamoto e Yabuki Non lo so Cosa vuoi votare? Forse Climber Merita di più È più Capolavoro Anche perché È più noto Secondo me Molto banalmente Qua è il tuo cuore Quindi scegli tu Immaginavo Anche qua Gans Scusami Blue Lock Due survival Sì Se vogliamo Sì è vero Vince Blue Lock Ah Bella sfida Però Pride Pride è proprio Un capolavoro Dove si legge Lo trovi tutto su Amazon Sono cerchi Eh Rock Dai Dai Ma di Boici C'è tanta altra roba È la prima esperienza Mi Fai mandare avanti Murcielago Tanto poi lo elimino Comunque sì Sì Non arriva alla fine Ecco Secondo Terzo giro The Climber Dolly Kill Kill Qua diventa sempre più difficile Però starei ancora su Climber Se devo essere onerto Dolly Kill è molto carino Però È un altro livello Sì Solitaire Not Conan Zero Steatime Sono entrambi due spin off E Per il messaggio che manda Perché ogni capitolo Di Zero Steatime Non è una trama Ogni capitolo È un episodio autoconclusivo A volte magari qualcuno È collegato Ma ogni capitolo Ti dà un insegnamento E questo Lo premia Concluso anche questo In sei volumi Ottima sfida Per l'importanza del brand Pokemon Adventure Lo è di più È più imprescindibile Ma andiamo avanti Dall'Advento Sono d'accordo Gintama Gintama Sì dai Anche perché cala molto L'eroe morto nel finale Allora San Pedro mi ha mai deluso E ogni volume Mi insegna qualcosa Sulla pesca O Su qualche cosa Del Sulla pesca O sulla pesca Su qualcosa ti insegna Sulla pesca Scusami E anche sulla Non sulla cultura Sulla cultura del pesce In Giappone Diciamo Sull'abita Dei vari pesci Vabbè Sanpei I Shield Jagan Forse merita Un po' di più I Shield Dai Sì Comunque è l'unico C'è l'unico Il miglior manga Sul Sul football americano Comunque Te ne parla troppo bene Di I Shield Beh in manga Golden Kamui Due orientazioni molto nordiche Per questa in Islanda Questa nell'Hokkaido Premio Golden Kamui Concluso comunque Bella sfida Pride Pride mi è piaciuto Davvero tantissimo Run Piccolo gioiellino Anche questo c'è un video Che l'ho fatto proprio con Mind Però non l'ha mai letto Alla fine No Non mi hai convinto Per forza Dei Jidweki Il riciclo è andato male Perché poi il mondo È arrivato alla catastrofe Quindi per forza Vabbè Questa è una sfida Tra passato e futuro Tra due manga Anche simili Questa è una mia Papabile finale Due dei miei manga preferiti Ma la mia top Parla chiaro Dr. Stone Allora In realtà Ti dico la verità Poi finisco Maghi Finisco Maghi Però Maghi È Un manga D'avventura Di magia Di combattimenti Ok Dr. Stone è davvero Una cosa speciale Capito Sì Quindi in questo caso Voglio usare Dr. Stone Non come perché Io lo preferisco Ma perché per me È più importante Se rivisci le 3-2 E leggere Dr. Stone Che Maghi Anche perché L'ho lasciato fuori Su un Kenro Che quindi devi Portare avanti Allora qua Sono due top Ma Radiant È un po' sopra Radiant è meglio E guarda Questo è ancora In corso 11 volumi Lo scan Va sfinito Lo sto redeggendo Comprendolo Con le dizioni di adesso Che è proprio questa Mi è piaciuto tantissimo Ma Premio ancora Atelier Davvero bello Voglio proprio spingerlo Che più gente lo legga Ma non perché Debbe essere spinto Ma perché Non è troppo conosciuto Ovviamente Ma infatti Secondo me Bisogna fare questo È la stessa cosa Che farò adesso Shaman King O leggete effettivamente La versione con il finale tronco Ma con tutti Eh Ergir Baletto Dai Io mando avanti Ergir Kinniko mandai Ti lascio Sì Ci sta che Machical Girl Molli adesso Ottima sfida Blue lock però È più bella Sì sì Blue lock Anche secondo me Dai vota te Sì Questi ci stanno bene Assieme Però Nane Kaoru Mi ha veramente Sorpreso tanto Quindi lo voto Anche questa è una bella sfida Però penso Che tu farai prevalere Tu non hai visore D'insieme Perché non hai finito Per forza Ergir Sì Mh Veno Capirai Va bene A tempo debito Oh no Ma avrei Avrei a botta Qua mi dispiace Dover Eliminare uno Di miei manga preferiti Perché insomma Ha fatto la storia Dei manga Però Porto avanti Gintama Perché comunque Da adventure Non è finito Va bene Ciao Dada Pensai Gli eliminassi Gintama Pensavo di sì Pensavo di sì Ma ci sta Ci sta Qua secondo me Dobbiamo votare Golden Kamui Dai Davvero Dai Ho proprio L'onestà Vera Ok Sono onesto Blue Lock È superiore Golden Kamui Sì Golden Kamui Sì Sì Anche se nel cuore Noi abbiamo Blue Lock The Climber Declimber 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 Per quanto il cuore Mi voglia far votare Conan Se lo faccio Dischiù Di morire Se il tuo canale Vuole continuare A desistere Dai Radiant 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 Sì sì Adesso Radiant Siamo a un'ora Ma noi abbiamo finito Grazie a chi ha seguito Il video Quindi a questo punto Siamo senza tagli Perché vabbè Dr. Stone Ice Shield Entrambi scritti Da Ricino Nagaki La prima opera Di successo Di Nagaki La seconda opera Di successo Di Nagaki Adesso c'è Trillion Game E mi è piaciuto Di più Dr. Stone Entrambi finiti Entrambi finiti Da poco Dr. Stone in Italia In realtà finisce A gennaio 9 gennaio Appena è uscito Però Dr. Stone So che tu Se stai seguendo solo l'anime Devi ancora vedere La terza season Vedrai Capolavoro Davvero Particolare Sanpei Kinikuman Qua scendo Dal far vincere Sempre Kinikuman Perché Sanpei È davvero Un bellissimo manga Bene Quarti di finale Ah l'ultimo manga Scusami Stesso motivo di prima Sono entrambi due manga Che vorrei tanto spingere Questo perlomeno è completo A quattro volumi Compratelo È disponibile anche su Amazon Atelier Ottimo Ok Questo è il momento in cui Non riesco la morte E se elimino Dei climber Va bene Chi sta Così qualcuno Leggerà Questo atelier Ottima sfida Vuoi spendere due paroline Prima che venga eliminato Allora L'unico motivo È che Di uno si conosce Il finale E dell'altro No Secondo me Se avessimo Il finale di Radiant Forse Batterebbe Anche Fire Force Ma ad oggi Immagino Che Fire Force Deba battere Non credo Succederà mai Ad oggi Non batte Dai Allora Gintama e Golden Kamui Due manga Che raccontano Due periodi diversi Della storia del Giappone Questo è il periodo Edo Questo dovrebbe essere Inizio Novecento Ora non mi ricordo Io non ho ancora letto Voglio essere onesto Però ne parlano tutti bene E sono sicuro Che mi piacerà da morire E Con ciò Gintama Ma sì Ottima sfida Due manga sulla scienza La scienza vera e propria Nel fatto di chimica e fisica E la scienza della pesca E questa è più biologia Comunque la biologia È un ramo della scienza No La biologia Lo studio Delle serie viventi Corretto Sì Qua si studia Le razze dei pesci Il loro habitat La forma C'è uno studio incredibile Sui pesci che pescano No Sono futtualmente serio Anto C'è una serietà Nella biologia dei pesci In questo manga Che incredibile Però Però Dottor Stone Dottor Stone Magari Dottor Stone Magari vedremo anche la pesca Un giorno Perché Si toccava prima o poi Io non volevo farla questa sfida Sono stato obbligato Chiudiamo tutto Eh Antonio Non lo so Dove essere la finale Ma come non lo sai Dai Dai che lo sai Tu che hai letto il finale Dovresti saperlo Io che non l'ho letto Non dovrei sapere Qualche spoiler Per colpa mia Che ho cercato una cosa Su Google Quando ho letto Il finale di Fire Force Proprio l'ultimo capitolo In modo particolare L'ultime tre pagine Ogni volta che lo leggo La prima volta Proprio pianto Nel senso che Nel leggere Lacrimavo A pensarci Ogni volta che lo rilego Mi rivengono i brividi Quindi mi viene la lacrimazione Perché è proprio emozionante Quello che vedo Poi vedrai Mi piacerebbe che Quando uscisse Lo leggessi In live Nel senso che Lo leggi Per i fatti tuoi Mentre siamo in live insieme Fai i commenti Poi vediamo Gintama Gintama È onestamente Il manga Con cui io Mi sono più commosso Perché è un manga Che fa tanto ridere Ma ci sono quei momenti Mega triste Che mi hanno colpito Nel profondo Gli ultimi 3-4 sacchi di Gintama E tu lo sai Perché l'hai letto tutto Sono molto emozionanti Moe è un personaggio Importanti Vengono fatte Scelte importanti Importanti Sì? Sì Scelte importanti E il finale È commovente Perché comunque Non è che pone fine Alla storia di Gintama Gintama continua Non è tutti Vissero felici e contenti È molto Bello E Mettiamola così Gintama Mi ha emozionato di più Il finale di Fire Force È un caporavoro Però Se vogliamo provare E votare L'imprescindibilità Gintama Ma buona Che incredibile Plot Twist Incredibile Atelier è arrivata Fin qua Ma sarebbe Sbagliato Solo me A farla vincere Dr. Stone Ok Quindi qua Dall'auto abbiamo La scienza Per ragazzi Perché mi dirà Michele Ci sono tanti altri manga Che parlano di scienza Tipo Moyashimon Che non l'ho mai letto Ma mi piacerebbe Tipo Radiation House Ci sono diversi manga di scienza Ma Lotto Stone Sa rendertela Semplice Per un ragazzo E anche Gintama Ti rende Semplice La storia Tramite La gatta Questa è proprio La cultura Manga Del Giappone Da insegnare a scuola Avvicinare i manga Alla storia Ovviamente in Italia Non ti racconta La storia del Giappone Perché non puoi Però per dire Come Come Kingdom Come potrebbe essere Nikitose Ma Nikitose Un po' C'è una strunzata Come potrebbe essere Kingdom O Golden Cowboy Che ti raccontano Uno spaccato storico Anche Villan Saga Per dire che in questa lista Non c'era Chiaramente Uno dei miei manga preferiti Servono ad avvicinare I ragazzi alla storia Per dire Quante volte hai sentito dire Che la gente Ha apprezzato Il rinascimento italiano Grazie ad Assassin's Creed 2 Io ho visitato Firenze e Venezia Non dico grazie a quello Perché ci voleva andare mio padre Però ho apprezzato Le strutture Grazie ad Assassin's Creed Sesso cosa Fanno anche questo E quando un manga Si collega alla realtà E ti Ti stimola A scoprire di più Di quella roba lì Vale la pena Questa è una sfida Tra scienze E storia Tra innovazione E tradizione Io sono sempre stato Un fan della scienza Va bene Team scienza E qua Siamo giunti A conclusione Avevamo deciso Di farvi Ho deciso Praticamente Ma credo che te due Avreste votato purtro Dottor Stone Non lo so Dottor Stone non l'è finito Gintama si È andata così Diciamo che allora Quello che è stato più votato È Shaman King A quanto pare A pari merito Con Gans È strano Vabbè Direi che siamo Giunti a conclusione Questi per noi Erano i nostri Top 128 manga Imprescindibili Da questa lista Magari ce ne sono Sicuramente altri Grazie Di aver seguito Questo video Grazie tanto Di aver partecipato Ci vediamo Al prossimo video Vuoi dire qualcosa In conclusione? Volevo fare complimenti A questi creator Che hanno fatto questa Questa lista E non sono stati Per niente banali Molto originali E che hanno dato L'opportunità al pubblico Di conoscere nuovi titoli Se vogliamo Ci hai fatto caso E chiudo proprio Senza aspettare Tua risposta Che in questa lista Non c'era Attack on Titan